Ciao ragazze e ciao ragazzi, andiamo con un interattivo molto particolare, che non si suddivide in delle varianti. Utilizziamo un mazzetto di tarocchi dove compaiono solo gli arcani maggiori ed è un mazzetto che non ho mai utilizzato. Voglio fare questo esperimento e probabilmente è più una domanda che sto ponendo per me, vero, però perché farla così in privato? In fondo, quello che verrà fuori potrà essere utile anche a qualcun altro. Magari ci saranno delle dritte, delle intuizioni, dei messaggi per altri oltre che me. E adesso facciamo così, stavo pensando, invece di affidarci alle carte chiedendo loro un messaggio, come se la persona a cui pensiamo stesse parlando, noi chiediamo alle carte un'altra cosa. Questa persona, in questo momento della sua vita, cosa sta facendo? Interroghiamo tutti gli arcani maggiori e veniamo un po' in base all'ordine in cui usciranno e a ciò che ispireranno. Cosa verrà fuori? Allora, vediamo un po' chi abbiamo dinanzi. Così approfittiamo anche per vedere un bel mazzetto di carte. Allora, abbiamo una persona che da molto tempo si trova impelagata in una situazione dalla quale non riesce a uscire. Questa è una situazione familiare anche di comodo. E a volte forse è meglio restare in essa piuttosto che rischiare la fuga. Perché rischiare la fuga vorrebbe dire innanzitutto dover poi andare avanti. Perché le evidenze sono due. O vieni rincorso e quindi per ottenere la libertà tanto cercata devi correre più veloce della persona che ti viene dietro. O magari vieni cacciato fuori, tagliato fuori da una dimensione nella quale finché non fuggi sei ancora una pedina, hai ancora un ruolo, hai ancora una tua posizione. Hai ancora il diritto di stare. Quindi questa persona, sebbene non si trovi a proprio agio nella realtà che sta vivendo, sembra quasi essersi rassegnata però per comodità a quest'ultima. Cosa farà? Vediamo un pochino. E sta lì. Sta lì. Nonostante tutto, il pensiero di ricominciare, di dare un taglio, questa persona non riesce a tirarlo fuori dalla propria testa. È un pensiero che si rincorre e che continuamente si ripresenta, sempre uguale a se stesso, quasi quasi a pretendere l'azione. Perché poi, osservandosi bene intorno, non mancano le occasioni e non mancano nemmeno le possibilità intese come, come dire, in questo caso gli strumenti del bagatto, ma non gli strumenti. Ci sono le occasioni per agire, le conoscenze, gli appoggi e ci sono anche, diciamo, delle motivazioni valide per agire. Cioè, questa persona, se veramente volesse liberarsi da un legame o da un condizionamento, cosa che ancora non sta facendo, probabilmente potrebbe riuscire perché anche agli occhi della gente si paleserebbero delle premesse tali per cui nessuno lo giudicherebbe male. Esempio, per chiarire un po' questo concetto che ho detto in maniera un po' arzicocolata. Lui lascia la famiglia, nessuno si scandalizza perché tutti dicono, ah, la moglie stava sempre in discoteca. Cioè, ci sono dei contesti per cui, a livello morale, non lo attaccherebbe nessuno. Il blocco è veramente dentro di sé, non è un qualcosa che è all'esterno. E infatti è un legame, un condizionamento inteso come dipendenza che può essere affettiva, che può essere una dipendenza psicologica. Possiamo avere a che fare con un contesto in cui qualcuno manipola l'altro. Si può essere manipolatori o manipolati, vittime o carnefici. A volte ci sono persone che comunque, da masochiste, brave masochiste, in fondo amano anche i contesti che in realtà razionalmente fuggirebbero. Però poi a livello proprio di emozioni, anche perversione in fondo, stanno bene in quei contesti. Perché avere un motivo per piangersi addosso, per poter vivere una costante malinconia, ad alcuni fa piacere. Torna comodo, è una sorta di giustificazione per non doversi mettere in gioco e per non dover fare il primo passo. Quindi questa persona è bloccata, potrebbe agire, ma non lo fa. Non lo fa, sebbene quello che le carte ci fanno vedere non sarà possibile continuare a lungo o a sostare in questa situazione. Probabilmente, interiormente, in questa persona i tormenti dell'animo sono aumentati nell'ultimo periodo. E sebbene questa persona stia cercando, a livello di razionalità, di calmare quei tormenti, l'anima non ne vuole sapere. L'anima si vuole muovere, l'anima sa che il destino è da un'altra parte, che ci sono esperienze da provare, da fare, azioni ancora da compiere. E pretende, pretende di partire. E sicuramente se questa persona non agirà di sua libera volontà, si presenterà un contesto tale per cui lo dovrà fare per forza e lo dovrà fare anche in modo abbastanza bizzarno. Si troverà quasi costretto, non dico cacciato, ma quasi. Saranno gli eventi stessi. Infatti quello che lui fa in questo momento è trattenersi. È proprio trattenere, è come se volesse forzare in negativo gli eventi. Cioè sta forzando una sorta di porta contro gli eventi. Gli eventi spingono per mettersi in cammino e lui regge la porta dall'altra parte. Impedisce a quegli stessi eventi di poter essere. Però il problema è un altro. È che mentre gli eventi stanno accumulando in questo incontro-scontro una forza maggiore, questa persona in realtà si sta fiaccando. Si sta fiaccando perché non si sta armonizzando, allineando con quello che è il proprio destino. E quando le situazioni iniziano a restare per troppo tempo bloccate in un impasse che non porta a nulla, cosa accade? Arriva la famosa torre, il fulmine dall'alto che scardina tutto. Proprio perché? Perché il personaggio ingabbiato e imprigionato nella torre, nel momento stesso in cui gli viene detto Se è libero non scende dalla torre con le proprie gambe, arriva il fulmine, la torre crolla, tutto crolla e anche il prigioniero va a finire con il sedere se non con la faccia a terra. Anche questa carta infatti ci parla di un movimento, un movimento da un lato necessario e inevitabile, dall'altro anche che deve essere accettato. Che vuol dire? Lui si sta opponendo ma in realtà lui deve essere proprio il personaggio principale di questa azione e riuscirà a non piegarsi perché non è tanto quello, riuscirà ad accettare il suo destino nel momento in cui dentro di sé il desiderio e la necessità andranno ad armonizzarsi e quindi puntando un orizzonte comune verso il quale muoversi. Ora non basterà che dentro di sé arrivi l'armonia per agire, ma sarà necessario prendere in mano le redini della situazione per dare indicazioni ben precise a questa forza che è diventata comunque armoniosa. Quindi qual è la questione? Questo personaggio che si oppone a un cambiamento inevitabile, che se non verrà secondato si imporrà dall'alto con anche una fase cuscinetto di cambiamenti abbastanza pesanti e anche rovinosi, chiede a questa fase, a questo personaggio, che contestualizzate voi su chi è, se è un compagno, un parente, un amico, di fare pace con se stesso, di fare pace interiormente e di agire esteriormente. Non basta solo dentro di sé aver trovato l'armonia, bisogna però compiere il passo. Quello che le carte mi suggeriscono è che probabilmente è una persona che è attesa da qualcun altro. Questo qualcun altro sta aspettando già da molto tempo, sta aspettando un riavvicinamento nel quale crede molto e per il quale ha rinunciato a tante cose. Ma la differenza è che mentre questa persona, a cui non è, diciamo, dato di poter compiere chissà quale gesto per anticipare questo avvicinamento, ha la pazienza e la calma e la perseveranza di rimanere lì immobile e di rinunciare anche a tante altre esperienze che avrebbe potuto fare, ha rinunciato a tante cose per aspettare la persona che attende, vi dico così, scusatemi la ripetizione, ma per non confondere con l'altra persona, colui che si deve muovere invece si sta forzando e si sta anche appunto affaticando. E già lì, diciamo, che sorge il problema centrale. Perché se rispetto ad un evento soffri, entri in contrasto, ti affatichi, è probabilmente perché non ti stai allineando a ciò che deve avvenire. Come quando si dice, sia Saturno contro, è ovvio, sia Saturno contro, a meno che non si comprende che Saturno porta una lezione, la si metabolizza, la si fa propria, la si impara, la si esegue e allora si va di pari passo a Saturno, Saturno non è più contro. Ovviamente prendete sempre in maniera metaforica, non sto facendo una spiegazione astrologica, soprattutto puntuale e precisa. È solo un'immagine che mi è venuta in mente in questo momento. Quindi abbiamo questa persona che sta aspettando. Sta aspettando e, beh, si tratta quindi di una storia d'amore. Si tratta di una storia d'amore, probabilmente deve esserci stata una separazione. Colui che deve mettersi in cammino in questo momento potrebbe anche aver detto «No, non posso allontanarmi dalla mia situazione di partenza per affetto, per abitudine, perché il legame dura da troppo tempo, per i parenti». Cioè, sicuramente ha tirato fuori tantissime scuse. Tantissime scuse dopo però aver ceduto alla passione, dopo aver comunque sperimentato determinate situazioni, sentimenti e emozioni con la persona che sta aspettando, poi all'improvviso è tornato indietro e con una banale scusa ha detto «Non posso, ma non posso non perché io non voglio, perché gli eventi non me lo permettono». E questo è il motivo per cui lui, ora che gli eventi sono in realtà, anche a suo favore, volendo, non si muove. E vuole convincersi che sono gli eventi a bloccarlo. Perché quello che lui ha detto è questo. Non è che io non voglio, io non posso. In realtà adesso lui può, ma non fa. Perché? Perché giustamente fare significa prendere su di sé una responsabilità che poi devi portare avanti, che devi onorare. Ed eccolo lì, appeso e bloccato. Appeso e bloccato, a testa in giù. E vi faccio anche notare una cosa, perché oramai voi che seguite il canale conoscete tanti mazzetti delle mie carte. Questo appeso ha tutte e due le gambe legate ed è bloccatissimo. Mentre gli altri appesi di solito hanno una gamba piegata e una gamba legata. Quindi, volendo, ci si può liberare con molta più facilità. Questo appeso invece no, è in totale perdita. Ed è in una posizione di blocco. E quindi credo che comunque questa persona continuerà a non muoversi. Ma in questo non muoversi, appunto, gli eventi sicuramente si abbatteranno. Ora vediamo che carta viene dopo, non lo sappiamo. Ma ci saranno delle perdite ingenti. Saranno perdite ovviamente soprattutto a livello di occasioni. O di occasioni karmiche e di energia. E infatti... Poi vediamo anche dopo questo sole come si aprirà... Quali conseguenze verranno. Perché quel problema è che... Veramente è arrivato il momento dell'unione. Del poter stare insieme. Questa è una coppia che ha un legame molto molto forte. E questa cosa l'ha realizzata soprattutto la persona che sta aspettando. Ed è questa consapevolezza che fa sì che questa persona riesca a rimanere calma nonostante tutto. Perché poi il comportamento ambiguo e anche ingiusto di colui che sta fermo. È abbastanza evidente alla persona che sta lì ad attenderlo. E vi faccio notare anche una cosa. Energeticamente, essendo queste persone molto simili, cosa accade? Entrambe, sebbene con motivazioni diverse, stanno vivendo la stessa situazione di immobilità. Perché poi questa è una cosa molto particolare. Quando due anime sono molto legate, magari fanno cose apparentemente diverse, ma nella sostanza, nello stesso momento, anche in luoghi differenti, svolgono funzioni che nella sostanza hanno le stesse identiche dinamiche. E qui è la stessa cosa. Entrambi sono fermi. Uno aspetta e uno cosa fa? È lì che sta cercando di allungare l'attesa. È paradossale, perché è come se facessero veramente la stessa cosa, ma con l'intenzione diversa. E questa è una cosa importante, perché uno dei due è indirizzato verso l'altro. L'altro invece no. Vediamo un pochino dove andiamo a parare, quindi, in questa situazione e in questa coppia. Allora, sicuramente la persona che sta aspettando dei due ha raggiunto, scusatemi, un grado di consapevolezza molto più ampio, più alto, più profondo. Tendiamola come volete. Comunque maggiore. Questa cosa se la porta sicuramente già dalle vite passate. E vi faccio anche notare una cosa. E vi dico così perché. Perché colui che si deve muovere, lo abbiamo visto su questo bellissimo carro, dove abbiamo questi due leoni. Questi due leoni che sono in cammino e lui che li deve dirigere. Qui i leoni sono ormai pietrificati. Qualcosa di fermo, di ormai una sorta di... Come se fosse diventato un qualcosa da prendere come monito, una statua. Un qualcosa che è stato in un'epoca che fu, vedete, gli stessi colori che si ripetano. Siamo con i piedi sugli stessi colori che ci trainavano e ci trascinavano prima. Come se questa persona avesse compiuto quest'azione a livello personale, profondo e spirituale molto tempo prima di lui. È come se lui la stesse rincorrendo a livello proprio karmico. Cioè ci dobbiamo incontrare in un punto, io sono indietro, sono indietro anche perché non mi voglio muovere, tu invece sei già arrivata. Quindi quello che era questo carro, guardate come sono simili anche come posizione, a me è ancora in cammino perché mi deve portare ad un punto d'arrivo. Tu sei arrivata, quel carro si è trasformato in un trono di pietra. Cioè si è ormai posato, quando si dice mettere il punto, mettere la prima pietra per poi costruire. È un qualcosa che non si muoverà più, è un qualcosa dove una volta giunti la prima pietra la poggi, la posi, la metti lì a terra e poi finalmente inizia la costruzione. Qui invece ci stiamo ancora avvicinando addirittura alla terra promessa, terra promessa intesa come lo scopo, il fine ultimo del nostro cammino, almeno per quanto riguarda questa incarnazione. Quindi queste due persone hanno un legame karmico molto forte. Evidentemente al karma comune si sta contrapponendo in parte in questo momento il karma personale di ciascuno. Il karma personale della persona che è immobile, si trattiene, è quello che crea in questo particolare frangente, crea diciamo l'intoppo maggiore al riavvicinamento. Però ovvio che nulla avviene per caso e quindi anche questo stop ha una sua funzione. Ha una sua funzione, bellissimo, dico bellissimo perché mi piace anche finalmente una carta delle stelle diverse dal solito, che ci conferma cosa? Stesse dinamiche, ma questa volta questa carta delle stelle a differenza di altri mazzetti non vede le anfore riversare il loro contenuto nello stesso corso d'acqua per poi andare insieme, ma vede una riversarlo totalmente sulla terra, andare disperso, tutto questo sentimento va disperso. L'altra invece si è allineata con la propria natura e viene versata in una natura ad essa simile e scorre, è in movimento, è in cammino, pur facendo le stesse cose in realtà poi le dinamiche sono differenti, sono uguali nella sostanza, sono diversi nell'effetto. E si conferma quindi questa situazione tra queste due persone, vediamo un po' come evolve la situazione. Abbiamo comunque, diciamo, il grande narratore cosmico di questa storia, di questo capitolo, che sta per entrare in gioco. Il narratore, che è la voce, diciamo, fuoricampo, che ogni tanto si inserisce nei romanzi e commenta quello che sta accadendo, come una voce in terza persona che va a raccontare gli episodi, gli episodi non visti da dentro, dall'interiorità della persona che appunto li vive, ma visti dall'occhio di una persona che osserva. E c'è proprio questo osservatore, che è come se stesse per dire, basta, io ho aspettato, ti ho dato tutto il tempo necessario, è vero che abbiamo l'eternità dinanzi, ma questo passo va fatto, ti devi muovere. Se non ti muovi, come abbiamo detto con quella torre, arrivo lì o dall'alto, scusatemi la stanchezza, maggiore parole, e ti impongo il cambiamento. Ti impongo il taglionetto, cioè qua devi tagliare totalmente con la situazione che hai alle spalle e con il modo in cui ti stai comportando. Qui va tolto tutto ciò che non è più necessario, se non lo fai tu, vengo io e spazzo via tutto. Ah, ci sono motivazioni che ti trattengono, ah, ti vuoi giustificare in questo modo, vengo io e ti tolgo anche le motivazioni. Non sei tu che ti muovi, faccio in modo che ti caccino di casa e che ti tocchi muoverti, che ti tocchi muove, che tu ti muova. Vabbè, ci siamo capiti. E ce lo conferma anche la ruota, che sicuramente è una bella carta di movimento. Andando a contestualizzarla con quanto detto, direi che questo cambiamento ormai è alle porte. Non passerà molto tempo, ma dovrà abbandonare la situazione che sta vivendo. Ora il problema qual è? E' che poiché lui, questa persona, si oppone a riavvicinamento, si troverà forse a metà strada tra quello che dovrà per forza lasciare e quello verso il quale dovrebbe poi andare. E il problema sarà proprio scegliere tra queste due cose, anche perché indietro non si porrà tornare. Indietro non si porrà tornare e lui cosa farà? Probabilmente, dovendo abbandonare il contesto in cui si trova ora a vivere, cercherà una soluzione alternativa. Potrebbero esserci delle conoscenze in comune, potrebbero esserci situazioni a lui, non dico familiari nel senso proprio di parentela, ma situazioni che potrebbero concedergli asilo. Però la cosa strana che mi viene è che questa persona, pur non trovandosi bene nella situazione che dovrà lasciare per forza, per qualche strano motivo, vabbè che era venuta la carta del diavolo, quindi ci sono delle dipendenze, dei condizionamenti, ci sono comunque dei legamenti, cioè quasi disposto a supplicare pur di non essere mandato via. Il 5 è anche un numero, numerologia di movimento, di stabilità, di non radicamento, una cosa che non è radicata, non può rimanere sempre nello stesso posto, anche per definizione. Però è come se questa persona cercasse in tutti i modi di convincere qualcuno a non costringerlo ad andare. Abbiamo dei frati, la comunità, il convento, lo stare sotto lo stesso tetto. Ecco, è come se questa persona comunque decidesse all'improvviso anche di umiliarsi, sai, il religioso che umilia se stesso per dare onore a Dio. In questo caso, questo tipo di umiliazione è solo una conseguenza del comportamento che questa persona avrà. Un cuore stesa molto particolare, non so se a voi risuona. Perché, ripeto, qui c'è un collegamento animico molto forte con la persona che sta aspettando, però quest'altra persona, quella che dovrebbe muoversi, scusatevi le ripetizioni, è come se cercasse tutte le scuse possibili per non muoversi. Chissà che cosa deve aver combinato nelle vite passate, magari poi faremo un approfondimento. Faremo un approfondimento, però purtroppo gli verranno messe dinanzi tutte le motivazioni per cui la situazione non può andare avanti, non può continuare per come, diciamo, si è data fino ad ora. Dovrà prendere atto della decisione, del verdetto, di quello che è stato comunque stabilito. E vediamo un po' cosa accade quando dovrà prendere atto. E niente, deve andare, l'abbiamo detto, lui non si muove, non si muoverà ed eccola qua, arriva. Arriva il cambiamento, arriva questo fulmine al ciel sereno, arriva la fine della situazione nella quale si era un pochino baricato, si era nascosto, della scusa, la maschera che aveva indossato per poter dire non sono io che non voglio, io non posso, questo è il mantra di questa persona, non è io non voglio, ma io non posso, tu aspettami, ma io ti amo, alla follia, verrò, ma non posso. Ecco, io credo che le persone che stanno seguendo questo interattivo hanno avuto la pazienza di arrivare a questo punto, molto probabilmente si sono sentite dire questa cosa. Sì, sì, perché poi questa persona cosa ha fatto? In fondo si è sempre mostrata disponibile nei confronti di chi sta aspettando, che tra l'altro è l'imperatrice, quindi si è dimostrata proprio, sì, sono io l'altra parte, eccomi, sono l'imperatore, guarda, io ti do promesse, concretezza, ti do i sentimenti, sono lì, guarda, siamo fatti l'uno per l'altro, non potrebbe che essere così, se non mi vedi arrivare, mi perdonami, ma sai, sono impegnato, da imperatore devo badare al mio regno, sarebbe una vigliaccata lasciare la mia famiglia, sarebbe una vigliaccata lasciare Tizio, lasciare Caio, purtroppo io devo prendermi le mie responsabilità e seppur soffrendo tantissimo fa più male a me che te. Scusatemi questo modo di parlare, ma è solo per cercare di rendervi quello che sento io. Tante bugie, situazioni poco chiare, scuse, chiacchiere, 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 questa vicinanza che comunque è sempre rimasta separazione, questo andare avanti e indietro, ma fare tre passi indietro come gambe, non avanti e tre indietro, la via in comune che resta sola, solitaria, va verso un orizzonte che sembra non portare a nulla, la luna è bella che alta e manca ancora tanto tempo prima che il sole risplenda, e si alzi a illuminare tutte le cose per farci capire tutto. Quanto è bello questo mondo! E quello che, diciamo, allontana la realizzazione, o meglio, il compimento di ciò che tra le due persone che abbiamo incontrato in questa particolare lettura deve darsi, è semplicemente questa ferma volontà di non agire. Ripeto, con questa stesura noi stiamo vedendo solo cosa fa, cosa accade nella vita della persona che è venuta fuori come profilo delle, diciamo, delle interpretazioni dei vari arcani. Però non stiamo approfondendo effettivamente come mai si comporta così, quindi magari questo lo faremo in seguito. Quello che io vi lascio da questo interattivo è solo un messaggio, solo una, diciamo, ci focalizziamo solo su un aspetto. C'è una persona che dovrebbe agire, che vi ha anche promesso che lo farà, che però non lo vuole assolutamente fare. Quindi se voi vedete che questa realizzazione tarda ad arrivare, sebbene voi sentiate che c'è qualcosa tra voi che vi lega tantissimo dal passato, e state lì, guardate, voi siete lì ad aspettare, ad aspettare, e soprattutto, cosa bellissima, perché ciò che blocca tutto è proprio quella serie di confusioni, bugie, chiacchiere, imbrogli, impicci, tutto quello che usa come giustificazione questa persona. Ecco, guardate, questo eremita bellissimo, che in questa carta gira di notte. Negli altri mazzetti a volte l'eremita comunque è di giorno, o meglio, la carta non fa pensare che ci sia un cielo notturno. Qui la persona che attende, vedete anche questo serpente lungo il bastone, a indicare un pochino tanto il simbolismo poi di Esculapio, il bastone di Esculapio, ma in realtà anche una sorta di tentazione, la tentazione di abbandonare, a volte non vedendoci chiaro, però persevera, aspetta, attende, e il fatto che non stia abbandonando è anche dato da questo evidente segno di movimento, questo suo continuare a andare anche se non si sa verso cosa. Cioè è un aspettare che a volte diventa desiderio di andarsene, però nonostante tutto è una carta di solitudine, è una carta spirituale, è una carta di riflessione. E quindi è una carta che ci parla di un movimento interiore che però alla fine è sempre una fermezza spirituale e anche emotiva, cioè non ce la faccio più, il mio corpo scalpita, non reggo più la situazione, ma sto lo stesso aspettando, non solo, ma addirittura sto cercando di fare luce sulla situazione e sul contesto, mentre l'altra persona rimane ferma, bloccata, vincolata non si vuole muovere assolutamente. Quindi vi confermo una cosa, non è vero che ci sono motivazioni esterne, non ci sono condizionamenti da altre persone, probabilmente neanche il contesto di partenza vincola più questo individuo, ma sono tutte scuse ad intendersi come maschere, come abiti indossati per giustificare comportamenti che in realtà partono solamente da lui. Bene ragazzi, io non so, io sinceramente proiettando questa lettura sulla mia vita, un paio di dritte per situazioni un pochino le ho focalizzate. Spero che sia stata utile anche a voi, è un esperimento, volevo così provare questa cosa e ho approfittato di questo momento. Vi auguro una buonanotte, un bacione.